Attenzione, i parabeni penetrano la pelle, uno studio scientifico ha dimostrato che provocano il tumore al seno. Quello che vi ho appena letto è il testo di un allarme che mi è comparso sulla bacheca Facebook qualche tempo fa. Ce ne sono decine, tutti simili, alcuni aggiungono la lista degli ingredienti da evitare, altri quella dei marchi da non comprare. Quando però ci troviamo di fronte ad allarmi di questo genere, la domanda che ci facciamo tutti è sarà vero? Sarà vero che i parabeni sono cancerogeni? Dobbiamo preoccuparci? Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Mautino, sono una biotecnologa e divulgatrice scientifica e in questi video vi racconto i cosmetici visti con gli occhi della scienza. Da qualche anno è nato un vero e proprio processo ai parabeni. Se provate a cercare su Google o su YouTube informazioni su queste molecole, venite sommersi da articoli e da video che gli accusano delle peggiori nefandezze. Nel frattempo, sugli scaffali dei supermercati e delle profumerie, i prodotti senza parabeni spopolano. Li avrete sicuramente visti e magari qualcuno l'avete anche comprato. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza usando le informazioni scientifiche attualmente a disposizione. Chimicamente parlando, i parabeni sono molecole che derivano dall'acido paraidrossibenzoico e hanno un'attività antimicrobica. Evitano cioè che le creme, gli shampoo, tutti gli altri cosmetici che noi abbandoniamo nell'armadietto del bagno, siano colonizzati da batteri e da muffe che possono farci del male. Sono stati scoperti negli anni 20 e per più di 70 anni li abbiamo utilizzati senza farci nessun problema. A partire dal 2004 però le cose per loro hanno iniziato a mettersi molto male. In quell'anno infatti è stato pubblicato uno studio dal titolo Concentrazione di parabeni nei tumori alla mammella a cura di un gruppo di ricercatori dell'Università di Reading nel Regno Unito guidato da Filippa Darbre, un nome che vedrete citare spessissimo quando si parla di parabeni. L'ipotesi alla base dello studio era questa. Si sapeva da tempo che i parabeni hanno un'azione simile a quella degli estrogeni, i cosiddetti ormoni femminili, che sono prodotti dal nostro organismo e che sono coinvolti nello sviluppo del tumore al seno. Quindi Filippa Darbre e i suoi colleghi hanno avuto l'idea di andare a cercare i parabeni nei tessuti ottenuti tramite biopsia di donne che erano state operate per rimuovere il tumore al seno. E li hanno trovati. Nelle cellule tumorali di queste donne si potevano riscontrare determinate concentrazioni di alcuni parabeni. Questi risultati sono sembrati da subito molto interessanti, anche se preliminari e con molti limiti. L'hanno ammesso gli stessi autori dello studio, l'hanno scritto nelle conclusioni, hanno detto che serviranno altri studi. Per esempio il numero di campioni analizzati nello studio era molto basso, ma soprattutto mancava quello che gli scienziati chiamano campione di controllo, cioè la stessa analisi ma effettuata su tessuti di donne sane. Perché questo? Per vedere le differenze. Se per esempio si scoprisse che i parabeni sono presenti omogeneamente nelle donne sane e nelle donne malate, la tesi dell'accusa sarebbe un po' più debole. Quindi siamo di fronte a un'ipotesi scientifica come tante che si fanno nella scienza e quello che succede alle ipotesi scientifiche è di essere messe alla prova. Sempre. In questi 13 anni quindi altri gruppi di ricerca in giro per il mondo hanno messo alla prova quell'ipotesi aggiungendo di volta in volta un tassello per riuscire a disegnare in un quadro il più possibile completo della vicenda. Ora sono tantissime e io qui ve ne posso raccontare solo qualcuno per questioni di tempo, altrimenti dovremmo stare qua due ore. Vi rimando per i dettagli al mio libro, il trucco c'è e si vede, in cui dedico più di 30 pagine a sviscerare la storia dei parabeni. Quindi dicevamo che per prima cosa bisogna affrontare il problema della mancanza di un controllo. Un gruppo di ricercatori di Seattle ha esaminato l'abitudine a utilizzare dei deodoranti contenenti parabeni in un numero molto grande di donne. Parliamo di circa 1500 persone divise in due gruppi. La metà, circa 800, composte da donne che avevano un tumore al seno. L'altra metà da donne sane. Il nostro campione di controllo. I risultati hanno mostrato che non c'è nessuna differenza nelle abitudini tra i due gruppi. In entrambi i gruppi le percentuali di donne che usavano o che non usavano i deodoranti erano paragonabili. Il secondo punto importante che voglio raccontarvi riguarda la valutazione dell'attività estrogenica, cioè capire se effettivamente i parabeni possono fare la differenza nell'indurre i tumori al seno. Robert Golden, un ricercatore dell'Università del Wisconsin, nel 2005 ha confrontato l'attività dei parabeni con quella dell'estrogeno per eccellenza, l'estradiolo. Le conclusioni dello studio di Golden sono abbastanza lapidarie. Pensate che i parabeni hanno un'attività di 10.000 volte inferiore a quella dell'estradiolo, ma non solo, è molto inferiore anche a quella dei fitoestrogeni, cioè quelle molecole simili agli estrogeni presenti in alimenti come per esempio la soia, oppure negli integratori che vengono consigliati alle donne in menopausa. L'ultimo tassello è stato messo nel 2008, quando l'Università di Nizza ha analizzato tutti gli studi pubblicati fino ad allora sul tema, concludendo che non è stata pubblicata alcuna prova a supporto dell'ipotesi che i parabeni siano collegati ai tumori al seno. Quindi non siamo di fronte a un problema per la salute pubblica e sarebbe inutile continuare a percorrere questa strada di ricerca. Fine. Tanto che gli organismi regolatori statunitensi ed europei dichiarano i parabeni sicuri e ne indicano le dosi massime di utilizzo e i tipi di parabeni che possono essere utilizzati nelle formulazioni. Nel frattempo però il messaggio che i parabeni fanno male è passato. Ed è passato un po' per colpa dei giornali che hanno cavalcato la notizia in maniera scandalistica, ma un po' anche per colpa degli scienziati che hanno lanciato l'allarme senza aspettare di avere una conferma delle loro ipotesi. Pensate che Filippa d'Arbre dopo pochi giorni dalla pubblicazione del suo studio dichiarava ad una rivista inglese che lei aveva smesso di utilizzare i deodoranti e consigliava alle lettrici di fare lo stesso. Capite che di fronte ad affermazioni di questo tipo, fatte per di più da una scienziata, sia difficile da consumatori essere fermi, razionali, analizzare tutta la letteratura scientifica? Ci crediamo, è un meccanismo normale che ci portiamo dietro dai nostri antenati e che ci ha permesso di sopravvivere a situazioni di pericolo per migliaia e migliaia di anni. Quindi noi di fronte al dubbio preferiamo non correre il rischio, preferiamo il prodotto senza parabene. E le aziende ci vengono incontro facendoci trovare sugli scaffali dei prodotti che soddisfano le nostre richieste. Nel farlo però commettono un'infrazione. Per la Commissione Europea, infatti, un cosmetico non può avvantare sulla confezione l'assenza di un ingrediente autorizzato. Questa regola c'è per un motivo. Indicare l'assenza di un ingrediente sicuro scredita quell'ingrediente agli occhi del consumatore che sarà portato a confrontare quel prodotto che non lo contiene con altri prodotti che lo contengono, preferendo il prodotto che non lo contiene. Questo atteggiamento spinge gli altri marchi a comportarsi nello stesso modo e quindi ad avviare linee di prodotti a loro volta senza parabeni, venduti magari ad un prezzo maggiore. Tanto per la sicurezza noi siamo disposti a spendere un pochettino di più creando un circolo vizioso che è impossibile da fermare. Per questo motivo io credo che sia molto importante che queste derive vengano frenate sul nascere. Uno scienziato serio dovrebbe essere consapevole dei limiti della propria ricerca e divulgare solo quello che i dati raccolti gli permettono di affermare con assoluta certezza. Soprattutto quando si parla di salute. Filippa, sto parlando con te e con tutti gli scienziati dall'allarmismo facile. Intendiamoci Filippa, se tu non vuoi usare i deodoranti, ma va bene, non c'è nessun problema, non sarò di certo io a giudicarti. Però, prima di consigliarlo ad altri, assicurati di avere in mano delle prove non solide, di più. Per oggi la chiudo qui. In uno dei prossimi video vi racconterò di quali ingredienti si mettono al posto dei parabeni come conservanti e anche in questo caso avremo delle sorprese. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, condividetelo, iscrivetevi alla pagina Facebook, YouTube, insomma tutto quanto e continuate a suggerirmi degli argomenti da trattare.